Ciao ragazzi, oggi siamo con questo Minecraft Vanille ed è un po' che non portavo questa serie e oggi dobbiamo andare a vedere una cosa che ho costruito ieri ci ho messo una mezz'oretta e non è stato tanto difficile e mi sbrigo perchè sta diventando notte allora qui, è praticamente ecco, qua, vabbè, questo quello ho fatto io per scappare dei mostri qui è bloccato perchè stranamente è caduto un po' di di caverna stranamente poi dopo qua stranamente c'è un bocchino con un'altra caverna crollata ma qui c'era un blocco di vetro perchè c'era un pipistrello adesso non c'è più, poverino stranamente è caduto un po' di roccia qua ci sono un po' di botte scendiamo scendiamo adesso devo mettere tutte le porte questo qui è esattamente un bunker armatura di pelle che qua c'era una un po' più forte forse di ferro qui fornaci quattro qui c'è del sasso la carting tables un po' di casse con materiali cose varie cibo un dormitorio un dormitorio con letto a castello e scala per andare a castello vedete sto dormendo al letto di sopra aia che è successo sono sdraiato eccomi uuuuh siiii guardate sto dormendo ok vabbè basta scendiamo qua c'è una mini cucina qui ci dovrebbe essere un salotto qua ci dovrebbe essere una porta e qua ci sono le due peccole si c'è anche un allevamento così questo bunker non è fatto per caso di apocalisse qua dopo tu c'hai le tue provviste le fai accoppiare c'è la ciccia adesso sta arrivando l'erba quella del prato c'è il dormitorio con quattro letti e tante provviste tipo qua c'è un sacco di provviste come vedete ci sono le armature adesso andiamo a fare le porte però andiamo in casa quella la casa per entrare ci deve passare per di qua e anche per uscire nel lago si passa se qui ho disboscato un po' perché mi si fa della legna si c'è un pilastro per fare il cemento lo so è brutto come la fana però mi sa che rimane qua per tutta l'esistenza di questo mondo poi prendiamo qua facciamo in fretta scendiamo quasi non so vabbè possiamo prendere prendiamo questo qua vabbè ci sono già qui non serve niente niente qui niente questo qui come sicurezza ma facciamo qua nel mio passaggino no cosa ho fatto allora il passaggino qua non c'era niente qui c'era la roba delle poesians qui c'è un sacco di poesians c'è un po' per la roba per la casa i generazioni su vistasness night visions queste qua non ci servono va bene abbiamo un po' di poesians per la casa nuova c'è per i bunker qui non ho affatto niente sennò c'è qualche incantamento efficienzi blast proteccation proviamo a vedere se cacchio è vero vabbè è vero che non c'è più la roba c'è un po' di sì ho fatto un affare di poesians secondo me l'avete già vista qui abbiamo tutte le robe speciale qui abbiamo il ferro c'è per 6 di ferro ok aspetta alzo un po' il volume di minecraft vediamo perché è tutto basso no la music no oh sentite i polli i pollasters qui c'è il mio portale aspetta che chiudiamo il corso ok qui c'è la raminiera che poi adesso non ci andiamo perché adesso dobbiamo fare i bunkers andiamo a finire i bunkers andiamo 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 adesso dobbiamo fare anche dei tavolini nei bunkers ciao piccole andiamo 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 ma intanto lì i mostri non possono passare perché sono stupidi vediamo qua adesso ti metto questa qua e lo so che non è di ferro però però va bene allora qua abbiamo bisogno di provviste le mette le poesie no perché ho libri vabbè adesso dobbiamo fare le porte di metallo no ok possiamo un po uno spreco però ne vale la pena credo spero perché se non sono fregato facciamo tra pulzance no vabbè tanti rocci che sono proprio bellini allora qua prima cosa da fare qua porta di metallo se un blocchettino ce l'ho a voi bottoni di legno vendolo bottone anche qua qui va sopra poi abbiamo una porta che serve a separare si 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 beh 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 allora facciamo qui una porta qua qui una porta qua ok qua siamo al sicuro non fosse un po una che questa cosa messa qua togliamo la torcia qui via no ma un muro decente se io adesso come faccio a chiudere qui sopra mi servirà una bottola ma io la bottola però ma che pallina cioè la bottonzo beh bottonzo qua qua ok ok scusami ok dopo prendo un po di legno per fare la porta non ci vuole la fornace ci vuole il legno per fare la porta prendiamo la porta e ti mettiamo il pulsantino il pulsantino il pulsantino il pulsantino il pulsantino il pulsantino qua mettiamo cascia alla mano il pulsantino prendiamo il pulsantino il pulsantino facciamo un altro po una botola fa la botola ci vuole il legno fare il legno vuole tavolo ci vuole tavolo ci vuole tavolo fare tavolo no l'hai messa male l'hai messa ma chiudiamo no si fa tacca prendiamo questo qua per fare legno ci vuole tavolo ma come no come si può fare una cosa o chiudiamo toglie questo qui è tutto bene illuminato questo qua ci servirà per dopo prendiamo questo qui facciamo altro legno facciamo delle scale che però serviranno mettiamo la botola stavolini sono già fantastici allora io direi che il bunker è completo a parte questa zona che deve arrivare che non so se sta continuando ad arrivare o o no aspetta spostiamo un po la torcia ciao eh sì e boh qua è tutto a posto abbiamo qua il pulsantino per andare qua qua ci sono i dormitori sì a posto via ragazzi per questo episodio è tutto ciao ciao